Durante la riunione è stato presentato anche uno studio sulle pari opportunità e sul mainstreaming di genere, un lavoro che ha voluto ripercorrere alcune fasi della programmazione del Fondo Sociale Europeo in Valle d'Aosta fra il 2000 e il 2006, per osservare in che modo l'attenzione a questi temi ha prodotto dei risultati. Per quanto riguarda la fase relativa all'attuazione del programma, come diceva appunto la dottoressa Savoini, anche in questa valutazione si conferma l'attenzione che l'autorità di gestione ha posto nel suo programma operativo rispetto all'implementazione del dual approach, che vuol dire, come giustamente appunto si diceva prima, non soltanto un'attenzione a quelle politiche che vanno a lavorare direttamente sul genere femminile, ma anche all'introduzione del principio del mainstreaming di genere all'interno di tutte le altre misure, di tutte le altre attività che vengono promosse dal programma operativo. La valutazione ex ante di impatto di genere aveva evidenziato già che cinque misure del programma avevano un impatto potenziale impostato sulla parità, quindi già caratterizzato da un'attenzione forte su questi temi, e ben sette misure con un impatto aperto. Per impatto aperto nella valutazione di impatto potenziale si intende appunto quelle misure che presentano alcune caratteristiche in nuce che hanno un'attenzione forte a queste tematiche e che quindi potrebbero produrre dei risultati positivi. In particolare la strategia aveva a posto particolare attenzione alla promozione di azioni che abbiano l'obiettivo di garantire una forte presenza femminile nelle attività, l'individuazione di servizi specifici e la previsione di servizi e azioni di accompagnamento a favore della conciliazione, che come vi dicevo è sicuramente un tema molto forte anche in questa regione, quindi il POR ha in questo senso ben individuato il fabbisogno del territorio su queste tematiche. Il processo di riprogrammazione devo dire che ha ribadito tali scelte, anzi ponendo ulteriore una maggiore attenzione sia all'evoluzione del contesto in un'ottica di genere, quindi un'attenzione particolare anche all'evidenza di tutta una serie di anche tassi statistici di genere che rendono maggiormente visibili le problematiche e comunque le differenziazioni tra uomini e donne nel mercato del lavoro, ma anche con un'attenzione ad inserire anche in quelle misure che magari dalla valutazione ex-ante si erano trovate un pochino più in difficoltà ulteriori elementi che le hanno portate ad avere una presenza di sicuro maggiore impatto. Inoltre c'è stata la modifica del sistema di selezione ex-ante dei progetti, che fu approvata qui dal comitato di sorveglianza nel gennaio 2004, che anche in questo caso ha previsto una maggiore attenzione all'ottica di genere con un rafforzamento complessivo della presa in conto delle priorità trasversali, tra cui appunto le pari opportunità. Su questo tema della selezione ex-ante torneremo più avanti perché è a nostro avviso un tema cruciale su cui riflettere eventualmente ancora anche nella programmazione 2007-2013. Per quanto riguarda l'analisi quantitativa, come vi dicevo abbiamo analizzato la banca dati dei progetti dall'inizio proprio della programmazione fino al 2006. la scelta che è stata fatta proprio per andare a valorizzare non solo i progetti a sé, che sono chiaramente identificabili, nel senso che si selezionano tutti i progetti di quell'asse, ma proprio per evidenziare quel principio del mainstreaming di genere di cui vi parlavo prima e che giustamente nella strategia era stato posto con particolare interesse, abbiamo deciso di selezionare tutti quei progetti che avessero ottenuto un punteggio relativo alle pari opportunità nella scheda di selezione di cui vi parlavo poc'anzi, superiore a zero. Cioè sono progetti che hanno comunque ottenuto una valutazione di un certo tipo sulle pari opportunità. Li abbiamo trovati per lo più nelle misure A2, C4 e D3, comunque diffusi in quasi tutte le misure. Si tratta anche qui, come diceva la dottoressa Savogni prima, di uno sforzo molto forte, perché se pensate il numero dei progetti è veramente elevato, sono 293 progetti che hanno ottenuto questo punteggio relativo alle pari opportunità superiore a zero, quindi un numero molto consistente, quindi sicuramente uno sforzo e un'attenzione su questi campi considerevole anche da un punto di vista quantitativo, a cui vanno aggiunti tutta una serie di progetti, 184 progetti dell'asse. Accanto a questa positività, quindi questo sforzo, questa presenza quantitativa molto forte, va detto che la media dei punteggi non è altissima. Abbiamo una media del 2,35 rispetto a un massimo che si poteva ottenere di 15 punti, anche all'interno di quelle misure che abbiamo visto essere, nella valutazione di impatto, già impostate sulle pari opportunità. Ovviamente la media dell'asse sale, sale a 5,88, che è già un punteggio abbastanza consistente, però denota comunque una certa difficoltà da parte del sistema dell'offerta a presentare progetti che introducano all'interno delle loro proposte, delle loro attività, l'ottica di genere. Questo viene confermato dal fatto anche che con vari processi statistici abbiamo fatto delle correlazioni tra la possibilità che i progetti avevano di essere approvati o meno rispetto all'avere o non avere un punteggio sulle pari opportunità, abbiamo visto che questa correlazione di fatto non c'è. Quindi il punteggio di pari opportunità non sembra influire sulla possibilità di approvazione o meno di un progetto da parte del POR. Questo ovviamente è correlato al fatto che il punteggio è molto basso, se ho un punteggio aggiuntivo di due punti questo non mi condiziona al fatto di superare la soglia di approvazione o meno, quindi su questo probabilmente si può ancora lavorare, nel senso che appunto anche l'investimento degli enti gestori ovviamente se c'è una ricaduta, nel senso che sanno che se investono in questo campo possono avere anche una, possono influire sulla possibilità di vedersi approvato il progetto o meno, può essere significativo.